Il Copernico è un dialogo molto curioso. Il sole un giorno dice mi sento stanco e stufo di girare intorno alla terra. Oh, fa fatica. Allora, da questo momento voglio che sia la terra a girare intorno a me. È la rivoluzione copernicana. Tant'è vero che al sole non basta che ci sia questo cambiamento. Vuole che questi noiosi dei terrestri, che sono così superbi da pensare di essere al centro del mondo, capiscano di far parte di un pianeta che vagabonda per i cieli. Ci vuole la persona giusta. La persona giusta è Copernico. Convocato niente meno che in presenza del sole, Copernico si sente dare l'ordine. E' o non è il migliore astronomo del suo tempo? Di cambiare il punto di vista del sistema. Cioè di fare quella che noi chiameremmo la rivoluzione copernicana. Copernico all'inizio nicchia. Il sole ha un certo modo convincente di imporsi. Può darsi che se si nervosisce lo brucia. E bisogna sempre stare attenti a non essere scottati troppo. Ma Copernico ha paura, in questo dialogo, di ben alzze scottature. Ha paura che, dato la preeminenza nel sistema proprio dell'insegnamento superiore degli uomini di chiesa, siano gli uomini di chiesa che gli regolino il corso, gli regolino il conto. Il sole ha una mossa retorica straordinaria. Vai tranquillo. Tu dedica la tua opera a un papa, sarà papa Paolo III, e vedrai che nessuno oserà toccarti. Copernico fa esattamente questo che gli ha consigliato il sole, dedicherà a un papa il De revolutionibus ormium celestium, e non avrà alcuna scottatura. Ci sarà qualcun altro che sarà scottato. Leggiamo sempre nel dialogo tra il sole e Copernico, nel Copernico, che poi diventa una delle operette morali, e appunto il più sfortunato, non si fa il nome ma si capisce chi è, è il filosofo di Nola, appunto Giordano Bruno. Giordano Bruno non ha preso le cautele che ha preso Copernico, si è scatenato, letteralmente scatenato, in una serie di vere e proprie provocazioni intellettuali nei confronti degli insegnamenti della Chiesa romana, non è che Bruno fosse più tenero nei confronti dei riformati, tant'è vero che quando passò per Ginevra, pensò per un periodo molto breve di convertirsi al calvinismo, poi capito bene l'aria che tirava dalle quelle parti, montò a cavallo e se ne andò. Poteva stare bene in un paese come la Francia, o come l'Inghilterra, dove l'istituto monarchico riusciva in un qualche modo a contenere le spinte estremistiche da una parte di coloro che volevano tornare a un passato di controllo pesante dell'istituzione ecclesiastica sull'istituzione della politica. Questo era il caso della Francia, oppure in un paese che aveva compiuto una riforma, ma che non aveva accettato il Vangelo armato, come dice Piero de Ronsard, dei protestanti più estremisti, ma cercava invece una mediazione. E in questo pare fosse stato molto abile il padre della buona regina Elisabetta, cioè Enrico VIII, ma soprattutto la figliola di lui. Dopo la parentesi di restaurazione cattolica voluta da Maria, prima figlia di Enrico, detta anche Maria la Cattolica o Maria la Sanguinaria dalle parti appunto di Oxford o di Cambridge, per intenderci. Ebbene, cosa voleva Bruno? Bruno voleva in un qualche modo che si convertissero a questa nuova concezione dell'infinito quelle autorità politiche che dovevano garantire una vita universitaria normale e cioè non controllata dai tradizionalisti più feroci e eventualmente anche dalle tradizioni religiose. Questa operazione, come noto, non riuscì a Bruno, persino nella Germania luterana, dove Bruno dice ad un certo punto mi avete accolto come un amico e mi avete rispettato, anche io la penso diversamente da voi, persino nella Germania luterana Bruno conobbe delle difficoltà ad un certo punto se egli pensa di aver trovato la sua strada si è aperta la possibilità di una cappera nella Serenissima di Venezia. Venezia è città di tradizioni almeno apparentemente profondamente laiche, città indipendente, città che non è solo una piccola città-stato è al centro di un impero marittimo di grande rilievo, perché non andare a insegnare in un qualche posto a Ginevra? Non c'è la cattedra subito, però c'è un patrizio che si chiama Giovanni Mocenigo che dice a Bruno di venire a insegnargli l'arte della memoria. Aldel e Bruno va e insegna al Mocenigo l'arte della memoria. Risultato disastroso. Poco tempo dopo il Mocenigo da buon servo del sistema prende una carta e penna e denuncia all'inquisizione veneta Giordano Bruno. Giordano Bruno sarà incarcerato nelle Venezie e ad un certo punto dopo due anni di carcere veneziano Bruno viene avvocato a Roma e diventa oggetto delle attenzioni degli inquisitori romani. le cose cambiano come il regime carcerario perché quella relativa non dico libertà ovviamente essendo in carcere ma quella relativa mitezza che Bruno sperimenta in quel di Venezia a Roma è completamente negata. Per di più e questo è un grande peccato noi conosciamo nei dettagli quello che è stato la condotta di Bruno nella parte veneta del processo abbiamo soltanto riassunto di quelli che sono i capi di imputazione nella parte romana del processo. sembra comunque che le condizioni di Bruno dovevano drammaticamente aggravarsi con il fatto che insieme alla cena delle ceneri e altri dialoghi di soggetto cosmologico gli inquisitori mettono le mani sui dialoghi successivi di Bruno e qui le cose sono molto più complicate per esempio Bruno era quello che diceva che Dio è dentro di noi più dentro di quanto siamo noi a noi stessi solo che in un dialogo successivo alla cena delle ceneri che si chiama De gli eroici furori Bruno aggiunge sì c'è un Dio dentro tutti noi ma di quale Dio si tratti e come agisca dentro di noi chi può mai dire e qui questo Dio un po' inquietante lo diventa è paragonabile a quei fabbri che sono dentro l'Etna di lavoro nell'officina di Vulcano parallelo molto interessante con una divinità pagana e queste cose lasciano non poco perplessi tanto più che agli eroici furori si affianca un dialogo che si chiama lo spaccio della bestia trionfante in cui ad un certo punto gli dèi del cielo decidono di smantellare le vecchie immagini delle costellazioni celesti che rappresentano vizi e peccati per sostituirli con delle nuove immagini che rappresentino virtù ma queste virtù non sono le virtù cristiane sono le virtù della conoscenza sono le nuove tracce di un sapere che è destinato a cambiare proprio grazie all'innovazione di Copernico ma grazie soprattutto al riconoscimento dell'universo senza confini c'è una costellazione che viene trattata molto male nello spaccio delle bestie trionfanti ed è la costellazione dei pesci ma come il pesce è anche un simbolo di Cristo nella tradizione nella tradizione e poi uno dice ma questo pesce non sappiamo proprio cosa ci serve lasciatelo ai romani che ce lo cucinino nelle salsine che piacciono a loro la traduzione di questa battuta di Bruno è ben evidente solo che con questi cucinatori romani Bruno alla fine era convinto che si potesse arrivare a una soluzione di compromesso teniamo pure la religione per il volgo che ci crede anzi il volgo va tenuto sotto la morsa della religione tre persone colte pensavano come posso essere io o come può essere il sommo pontefice di Roma se si può essere un accordo invece a favore della buona e vera filosofia che questo compromesso potesse essere accettato da coloro che stavano studiando Bruno per farselo arrosto è stato forse uno degli errori peggiori che Bruno abbia commesso errori di psicologia non capiva che quel tipo di menzogne religiose che Bruno era ben disposto a lasciare nelle mani dei preti non dovevano essere nemmeno nei libri rivelate come menzogne e questa fu sostanzialmente la ragione per cui da una parte si rigidirono gli inquisitori dall'altra parte si rigidì Bruno e disse io non ritratto e questo non poteva che finire nella condanna al rogo con cui Bruno a cui Bruno fu condannato e fu eseguito la condanna il 17 febbraio del 1600 ultimo anno del secolo del suo 500 ora in questo senso Bruno può essere visto come qualcuno voleva un apostolo del libero pensiero però attenzione anche lì non è un libro pensatore di tipo ottocentesco anche se nell'ottocento è stato interpretato in questo modo è piuttosto qualcuno che ha sbagliato la sua scelta strategico-politica oppure la condotta sospettando sospettando i rischi e non avendo paura questa posizione coraggiosa ha avuto ogni tanto qualche interessante come potete dire valutatore 1917 quindi un po' di acqua ne è passata dai ponti della riforma di Lutero e dai ponti di Giordano Bruno un fisico brillante che si chiama Maurice Schlich allievo di Planck quindi uno della migliore scuola della fisica di lingua tedesca va a seguire Albert Einstein Albert Einstein sviluppa una cosmologia nel 1917 che applica le proprie equazioni quelle della relatività generale al cosmo in cui noi viviamo il modello che ha Einstein da del cosmo nel 1917 è un modello finito e statico e questo è molto importante ebbene Schlich che divulga questo modello alla fine della sua divulgazione fa un elogio quasi lirico di Giordano Bruno e perché è lirico questo questo modo di presentare Bruno perché Bruno quando parlava di universi senza confini secondo Schlich non era tanto importante che pensasse che l'universo fosse finito infinito quanto che non ci sono dei bordi che chiudono l'universo è un po' dice Schlich come sulla superficie terrestre voi potete girarla tutta non c'è un bordo che ve la chiude anche se la superficie terrestre è finita ma non ha un confine naturale e questa dice ancora Schlich è la grande intuizione di Bruno aver intuito che l'universo è un po' come la nostra terra appunto senza confine nel senso che abbiamo appena detto Mori Schlich come voi sapete ebbe un destino molto strano che vale la pena di avvicinare a quello di Bruno perché Mori Schlich andò a Vienna divenne il creatore del circolo noto come il circolo di Vienna si applicò un'analisi linguistica molto rigorosa della filosofia del proprio tempo si battè per una concezione scientifica del mondo e cercò di far circolare il più possibile le nuove idee della relatività generale e della fisica quantistica e fu ringraziato dall'ambiente in cui viveva con un colpo di pallottola che gli fu sparato sulle scale dell'università di Vienna da un fanatico neonazista che appena poi l'Austria fu annessa alla Germania di Hitler fu come dire scagionato di tutta e di qualsiasi colpa e addirittura divenne guardiano di un museo quindi Schlich muore per arbitrio e violenza cieca di uno dei poteri più orribili che il novecento abbia conosciuto appunto il potere nazifascista che è secondo me in questo benerede del potere che ha assassinato Giordano Bruno suo rogo nel 1600 e c'è una una sottile analogia tra queste figure di Schlich e di Bruno cosa c'entra Leopardi al momento appunto c'entra per il fatto che monziona Bruno dicendo stia attento e si prende le cauteli di Coperdico Bruno non lo fa e finirà male citato appunto in modo apparentemente marginale nel dialogo il Copernico ma il dialogo il Copernico di Leopardi è un dialogo ricchissimo di tutta una serie di spunti che sono in germe nella storia dell'astronomia Leopardi era copernicano traccia l'elogio di Keplero e di Galileo trova in Newton il grande punto di arrivo di quella che noi oggi chiamiamo la rivoluzione copernicana e ritiene che l'astronomia abbia oggi oggi al tempo di Leopardi naturalmente l'audacia di porre delle nuove grandi questioni concettuali quali sono queste nuove domande una è raccontata nel dialogo il copernico da una battutina di copernico stesso ma insomma adesso che noi facciamo della terra che trascina nel suo movimento intorno al sole piante e animali facciamo della terra un pianeta come gli altri i pianeti come gli altri diciamo diranno invidiosi termini di copernico nel dialogo di Leopardi invidiosi perché non abbiamo anche noi le nostre piante e i nostri animali insomma questo ripropone il problema della vita su altri pianeti questo non era un problema non trattato dell'antichità nell'antichità ci sono una serie di congetture su piante e animali negli altri pianeti ma colui che aveva in una maniera molto teorica ma molto sottile teorizzato profondamente la esistenza di altri esseri viventi sui pianeti era stato il grandissimo Christian Huygens grande matematico grande astronomo personaggio che è autore di un dialogo che chiama Cosmoperos non è proprio un dialogo un un testo mezzo come stile ispirato dalle osservazioni astronomiche che faceva insieme con il fratello pubblicato saggiamente postumo insaggiamente per l'integrità fisica di Huygens naturalmente Huygens si definisce un rigido calvinista e un vero calvinista non può escludere che l'onnipotenza di Dio crei altre entità viventi oltre a noi quali siano le forme di queste entità le lascio alle vostre congetture posizione piuttosto interessante perché nell'ambiente non più continentale ma delle isole britanniche non Newton che non si espone su questo ma i Newtoniani i seguaci di Newton sono tutti dei sostenitori di vita su altri pianeti e la grande astrofisica della prima metà dell'Ottocento è fortemente convinta che i pianeti siano abitati tranne uno c'è un'eccezione c'è un'eccezione ma un anonimo che pubblica la pluralità dei mondi per dire che i mondi non sono plurali nel senso che la vita c'è solo su questa terra perché altrimenti avremmo dovuto avere Gesù Cristo che mentre sulla terra finisce come il poveretto è finito in altri pianeti un giorno entra a Gerusalemme la Gerusalemme corrispondente un giorno viene fustigato risuscita da morte dopo due o tre giorni dipende da pianeta a pianeta eccetera in realtà questa è una parodia delle credenze della vita negli altri pianeti del pluralismo a cui ho fatto accenno di cui Leopardi come vi ho detto è un grande sostenitore ed è sostenuto quest'idea contraria è sostenuta perché sembra far a puni con l'unicità della missione di Gesù su questa terra da William Ewell che non è l'ultimo venuto è uno dei rappresentanti di quel Trinity College di Cambridge di cui anche Newton aveva fatto parte siamo negli anni 40 dell'ottocento l'episodio leopardiano sembra ormai dimenticato il dibattito sull'esistenza dei abitanti dei pianeti continua un grande scrittore che qualcuno considera il padre della fantascienza Herbert George Wells alla fine del secolo esordirà così nel suo La guerra dei mondi mentre qui su questa terra stavano a discutere se ci sono abitanti dei pianeti occhi cupidi e invidiosi ci scrutavano dal pianeta Marte e si preparavano ad invadere la nostra bella e felice terra i marziani sono arrivati su questa terra come voi ben sapete in una trasmissione fatta da Orson Wells che riprese adattandola agli Stati Uniti l'ipotesi della guerra dei mondi del Wells britannico con delle scene di isteria collettiva piuttosto pesanti dopodiché la cosa sembrò piuttosto calmarsi se voi non credete alla battuta sarcastica dello scienziato Edward Teller che quando Enrico Fermi scherzando una volta coi colleghi chiese ma insomma se questi abitanti dei pianeti sono così tanto bravi intelligenti e sicuramente avanzati perché non sono già qui scherzava Fermi questo si chiama paradosso di Fermi tecnicamente e uno dei suoi interlocutori probabilmente è Teller Teller è come ben noto uno di quelli che hanno lavorato alla bomba atomica nel progetto Manhattan ma è anche il padre delle super bombe cioè delle bombe all'idrogeno ed Edward Teller disse insomma Enrico tu non te ne sei accorto ci sono tra di noi ma si nascondono molto bene e parlano una lingua che tu non capisci e la maggior parte di voi americani non capiva americani intende europei scappati in America o americani nati negli Stati Uniti non riesce a decifrare si chiamano ungheresi allora a parte questa interessante battuta di di Teller o di qualcun altro che era lì presente il problema dell'invidia degli altri pianeti che Leopardi ci ha consegnato è un elemento reale è uno dei grandi problemi come voi avete modo di sentire in non poche delle conferenze di questa bella edizione di festival della festa scusate di scienza e filosofia che ancora oggi noi stiamo dibattendo non li abbiamo trovati non sono arrivate le onde radio da parte di qualche lontano pianeta non è detto che dobbiamo cercarli soltanto nei pianeti del sistema solare dobbiamo avere il coraggio veramente diceva Bruno di andare oltre Saturno che era l'ultimo dei pianeti del sistema solare a lui noto vagare tra un sistema planetario all'altro forse li incontreremo forse no ma la sfida che ci pone un universo senza confini è ancora viva e attuale tanto più che ultimissima cosa perché è il soggetto di quello che racconterò oggi pomeriggio quindi non voglio anticiparlo mentre Einstein e Schlich 1917 pensavano un universo in qualche modo chiuso dunque finito anche se senza dei confini al proprio interno senza barriera al proprio interno questa secondo Schlich era la grande intuizione di Bruno qualcuno oggi pensa ancora che Bruno avesse ragione proprio sull'idea di un universo che o è infinito o è dinamicamente in espansione né infinito queste teorie sono ben note fanno parte delle teorie di Gamow e di altri come per esempio il sacerdote Georges Lemaitre che sono state molto popolari nell'astrofisica peccato che furono lanciate per la prima volta all'inizio degli anni 20 da Alexander Friedman e da alcuni altri suoi colleghi nella Russia sovietica nella Russia sovietica quando Friedman disse signori come Lenin ci ha insegnato a fare una rivoluzione muovendo la società e sconvolgendo lo stato delle cose esistenti noi dobbiamo andare avanti e sconvolgere lo stato delle cose esistenti nello studio dell'universo il che meno poeticamente voleva dire che ci sono equazioni che descrivono l'universo che sono di natura dinamica che descrive un universo che si sta espandendo se proiettiamo il film all'indietro arriviamo a un momento in cui la concentrazione di massa ed energia è fortissima ed è il momento di quello che poi sarebbe stato chiamato il Big Bang e quindi direi ancora una volta onore a quelli che hanno in qualche modo attraversato questa strada onore a Giordano Bruno onore a Mori Schlich vittime di due poteri totalitari onore a Alexander Friedman che riuscì a fare la sua carriera senza finire nelle mani di Stalin in maniera poco onorevole e soprattutto onore a tutti coloro che hanno lottato come diceva Leopardi per darci un universo più grande di quello che potevano sognarsi Aristotele e Tolomeo grazie il professore come sempre ha stimolato le nostre riflessioni c'è qualche domanda che volete porgli il professor Battiston ha il microfono non lo vedo eccolo qui devi scusarmi la mia vista è proprio quasi andata ecco grazie grazie per questa bellissima presentazione è quasi è molto impressionante che una persona che è vissuta tanti secoli fa diciamo abbia detto cose su temi che ancora oggi ci interrogano e quindi questo da una parte ci fa riflette e dall'altra parte ci stupisce perché sappiamo che delle cose che oggi capiamo e comprendiamo non poteva capirle e comprenderle quindi talvolta ci sono dei casi in cui le idee sono assonanti ma non sono necessariamente diciamo veritiere ma da parte questo concetto Bruno non solo è riuscito a intuire un'infinità di mondi ma viene considerato anche quello che con le sue idee ha anticipato il concetto di multiverso cioè di altri universi che quindi è un tema forse ne parlarei di pomeriggio questo che è accennato al Big Bang poco fa niente un commento su questo fino a che punto questo può essere considerato vero e poi un'altra considerazione che in tutta questa discussione c'è una cosa che lui non poteva diciamo intuire è questa questione dello spazio-tempo curvo che è questa che dà infinità a un universo finito lo spazio e il pensiero dello spazio del tempo degli antichi era totalmente diverso dal pensiero dello spazio del tempo dei moderni la cesura il passaggio è Einstein quella ristretta e quella generale questo è veramente un cambiamento totale che non poteva essere diciamo credo che nessuno di questi che abbiamo citato abbia potuto mettere in gioco questo aspetto che è totalmente moderno e quindi la riflessione diventa anche come possiamo noi mettere assieme idee così stimolanti e rivoluzionarie considerando che a quel tempo il tempo e lo spazio erano pensati in modo radicalmente diverso rispondo subito vero ti ringrazio di questa bellissima questione perché mi permette di toccare un punto estremamente delicato è vero non aveva alcuna nozione di curvatura dello spazio o dello spazio o tempo Bruno non era diciamo vissuto troppo troppo prima rispetto alle geometrie non euclidee per Bruno lo spazio e il tempo sono infiniti e sono sostanzialmente di tipo euclideo però attenzione quello che mi ha sempre colpito molto assai è che se uno va a leggersi le analogie che Bruno stabilisce con il fenomeno della navigazione più in generale quando percorriamo la nostra superficie terrestre e non incontriamo confini ivi ha in mente una superficie curva che è appunto la superficie terrestre bidimensionale dopodiché io non farei minimamente di Giordano Bruno un antessignano della relatività generale assolutamente so che alcuni l'hanno fatto secondo me è una è un'esagerazione calcare le certe note quello che a me colpisce di continuo è questo bisogno bruniano di uscire dai limiti consentiti dalla tradizione e di affermare il diritto di pensarla diversamente e in questo senso è un bell'esempio di grande libertà intellettuale il parallelo con la navigazione si coglie molto bene appunto nel de'immenso soprattutto ma anche negli altri italiani e ritengo che fosse anche suggerito dallo spirito dei tempi insomma dall'esperienza di colombo e di magellano eroi che peraltro bruno non amava molto e chiudo con questo perché costoro sono andati a disturbare i popoli nativi insegnando loro l'arte di tiraneggiarsi e uccidersi reciprocamente quindi farsi del male mentre per Bruno almeno Copernico ha fatto pensare ad altri mondi e allude implicitamente a se stesso e lì non c'è bisogno per adesso di alcuna tirannide c'è qualcun altro qualcuno ha bisogno di attestati cosa dobbiamo fare il microfono il suo benissimo sì grazie orologio c'è il ragazzo qui davanti c'è qualcun altro no no l'ho qui lì questo ragazzo la morte di Giordano Bruno e quindi l'oppressione intellettuale del 16-100 esiste ancora oggi? cosa devo dirle l'eco della condanna di Giordano Bruno non fu soltanto italico la questione fu discussa e ripresa anche in altri contesti tant'è vero che Campanella il quale non finì su rogo ma aveva seguito in parte tutta questa vicenda disse ad un certo punto condannate condannate pure il sistema copernicano vedrete che ne farete una bandiera presso gli ultramontani gli ultramontani sono quelli al di là delle Alpi e in particolare sono i protestanti ora non è che Bruno sia un eroe per i protestanti questo sia ben chiaro però bisogna dire che lentamente nel settecento illuminista e riformatore Bruno cominciò a essere visto come un antessignano di alcuni di quei movimenti i quali ritenevano che dallo spazio pubblico dovesse essere rimossa qualunque ipoteca religiosa tipicamente alcuni dei rivoluzionari americani in particolare Thomas Jefferson e alcuni dei seguaci di Jefferson che sono stati poi coloro che hanno ispirato il Bill of Rights anche qui la situazione fu molto complessa e intrecciata molto più sofisticata di come posso raccontarvela io Giordano Bruno non so quanto meritatamente divenne anche un eroe della massoneria forse la massoneria dei tempi di Jefferson non so se di quella attuale non mi riguarda assolutamente credetemi è un problema che non mi riguarda però cominciò la figura di Bruno a quella di essere avvicinata a un martire del libero pensiero certamente la morte ha giocato molto se Bruno fosse se finito tranquillamente nel suo letto non avrebbe avuto questa visione questa caratterizzazione così potente tenete presente che Galileo Galilei come ve lo dicevo prima ci ha andato vicino però provvidenziale a Biura 1633 Galileo Galilei riuscì vecchio e cieco comunque a salvare la pelle e soprattutto a far arrivare guarda caso in un paese protestante però a Leida il testo dei suoi discorsi dimostrazioni matematiche attorno a due nuove scienze chi è che fece meglio Giordano Bruno a morire difendendo fino all'ultimo le sue idee o Galileo a piegarsi ma intanto a salvare la procedura o scusatemi l'anglicismo che mi è scappato la crescita della nuova scienza Bertolt Brecht che ha studiato entrambe le questioni e che era rimasto affascinato da questi due casi storici la prima volta disse che aveva fatto bene Galileo che così la scienza è andata avanti poi dopo raccontava anche bene Paolo Feyerabend quando mise in scena nel 54 se non sbaglio ma forse mi sbaglio sulle date proprio mise in scena il Galileo Galilei la vita di Galileo accusò invece Galileo di essere stato colui che aveva ceduto al potere e aveva le sue responsabilità scegliete voi quella che vi pare più interessante di queste due soluzioni se la prima o la seconda certo che nel caso di Bruno non c'è stato compromesso né dall'una né dall'altra parte per questo secondo me il caso di Bruno è così esemplare interessante un po' come per altri versi è esemplare interessante la parabola di vita e di morte di Morish Lick che ho prima ricordato posso farle una domanda io professore è benvenuto dopo il lavoro che ha fatto qui di tenermi a bada lei ha parlato di coscienza ha proprio iniziato dicendo che Bruno diceva Dio è dentro di noi non dobbiamo andarlo a cercare chissà dove le chiedo professore oggi l'uomo che vive in questo nuovo secolo è ancora alla ricerca della propria coscienza a trovare qualcosa dentro la propria coscienza che può essere Dio o qualsiasi altra cosa e questa è una domanda a cui è difficilissimo rispondere non saprei proprio che cosa dirle se non che coloro che vanno avanti coraggiosamente per la loro strada ha certo incontrando anche compromessi patti con la realtà effettuale per dirla con Machiavelli ma che vanno avanti per la loro strada hanno indicato dei modi in cui la nostra coscienza centra che sono ancora forse oggi più che mai degni di essere presi in considerazione nel 1521 quando ci furono delle forti polemiche e Lutero bruciò la bolla di scomunica venne fuori con una scelta mirabile perché era di fronte a un rogo che faceva della bolla di scomunica e dei libri del diritto canonico dicendo state attenti i libri non vanno mai bruciati perché se voi bruciate i libri vuol dire che non avete la forza intellettuale non trovate dentro di voi la forza di di confutarli curioso che l'ha fatto mentre bruciate ma lì lui voleva far vedere che non bruciava i libri per quei contenuti bensì che si ribellava fino in fondo all'imposizione romana ecco io credo che le figure di cui abbiamo parlato qui le figure come Lutero Lutero non ha mai fatto un rogo come ha fatto Calvino tanto per essere chiari le figure come Lutero figure come Bruno figure come Galileo con tutti i compromessi a cui lo si vuole imputare ma figure come lo stesso Newton a suo modo estremamente coraggioso benché personalità estremamente dilacerata come mostra la controversa spietata con Leibniz queste figure hanno ancora molto da dire proprio alla nostra coscienza perché io ritengo che se c'è un impegno coraggioso perché cresca la conoscenza in una società aperta questo è un impegno che ci coinvolge tutti giovani e quelli meno giovani qualunque sia come ha detto giustamente in un'intervista al Corriere Fabiola Giannotti abbastanza recentemente intervista di un mese e mezzo fa credo indipendentemente da determinazioni di sesso genere razza tradizione religiosa lingua eccetera questo modo di procedere dell'impresa scientifica è da una parte un esempio di buon lavoro intellettuale e dall'altra è un bel esempio di società aperta che a mio avviso con tutti i limiti che può avere la comunità scientifica però va continuamente salvaguardata se noi crediamo ancora in un qualche che abbiano senso parole come libertà e democrazia se no chiudiamola lì e andiamo al pub che è molto meglio grazie per le sue riflessioni e per gli spazi che ci ha lanciato al fine di poter pensare cose nuove e cose sempre più avanti e cose sempre più rivolte alle nuove conoscenze buongiorno a tutti grazie 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 grazie